Chi è Felix Afena-Gyan? In questo video scopriremo qualche dettaglio in più sul suo conto, sul conto di questo giovane ragazzo, anzi giovanissimo, classe 2003, e andremo a raccontare un po' la sua storia, visto che finora era sconosciuto, anche essendo molto giovane. Felix Afena-Gyan è approdato nell'Under-19 della Roma e ha iniziato a mostrare subito le sue grandi qualità, corsa, scatto, anche fisico, diciamo, e quindi è passato subito in primavera. Finché non è arrivata la prima convocazione di Mourinho con la Roma, che probabilmente ha intravisto qualcosa di positivo, qualcosa che poteva dare in più alla Roma attuale, ha visto qualcosa in lui, quindi ha deciso di promuoverlo, di farlo passare in prima squadra e per ora è una scelta che si sta rivelando azzeccata. Infatti Felix Afena-Gyan in primavera ha avuto, visto che è stato un periodo abbastanza breve, ha avuto degli ottimi numeri, sei gol in cinque partite, quindi diciamo uno score realizzativo abbastanza elevato e appunto Mourinho, vedendo queste statistiche, anche vedendolo giocare probabilmente, o ricevendo recensioni, statistiche di qualche osservatore, ha visto in Felix Afena-Gyan un giocatore che poteva essere promosso in prima squadra, che poteva dare una mano in prima squadra. Infatti è fisico, molto veloce, abile nello scatto, molto capace nel dribbling, anche ieri si è visto, quindi ha veramente spiccate qualità, questo ragazzo 2003, quindi ancora giovanissimo, di 18 anni e appunto ha abilità nell'uno contro uno e ieri si è visto, dopo l'ingresso in campo, dopo aver sostituito Shomurodo, ha segnato, ha siglato due gol in dieci minuti, quindi è entrato al settantacinquesimo circa e in venti minuti, quindici minuti, dopo essere entrato, è riuscito a fare due gol. Ricordiamoci, un classe 2003, partita che era bloccata sullo 0-0, un 2003, un ragazzo così giovane, che ha risolto la partita, è segno anche di grande personalità. Felix Afena-Gyan ha fatto appunto due gol, di cui uno bellissimo, riceve palla da dietro, tiro da fuori area, praticamente all'incrocio, da 25-30 metri, imparabile per il portiere, e un altro gol, gli viene data una palla di esterno dentro l'area, anche quello molto bello, perché di prima, con il piattone destro, la incrocia e il portiere del Genoa non ci può arrivare, quindi comunque direi un'ottima partita con la prima squadra, si presenta bene, vedremo se sarà utilizzato da Mourinho, come arma, appunto, per sostituire qualcuno stanco, come arma in più nel finale, per cercare di sbloccare, oppure di risolvere, di riprendere una partita. Quindi, fatemi sapere qua sotto con un commento, cosa ne pensate, se conoscevate già questo ragazzo, se l'avevate già sentito, cosa ne pensate dei suoi due gol di ieri, e niente, io vi auguro una buona giornata, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo alla prossima, bella!